Questa sera in onda su Cilento Channel, canale 636 del digitale terrestre e in Smart TV alle ore 21 e 15 circa, il programma Cilento Focus. Ospiti il dottor Vincenzo Sica, medico di medicina generale e vice coordinatore dell'AFT Aggregazione Funzionale Territoriale Capaccio Pestum e il dottor Pasquale Capano, pneumologo e responsabile del reparto di medicina respiratoria presso l'Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Nel programma i due medici discuteranno di Covid-19, vaccino antinfluenzale, sintomi da Covid, decorso malattia, Covid nei bambini, curva dei contagi in Regione Campania e tanto altro ancora. Per la prossima puntata i due medici hanno dato piena disponibilità mettendosi al servizio dei cittadini che potranno interagire con domande specifiche relative alla situazione attuale in diretta TV e sulla pagina Facebook Cilento Channel e dunque confrontarsi con i due medici su tematiche specifiche. Per chi fosse interessato può già inviare le proprie domande alla mail della nostra redazione televisiva redazione-cilentochannel.it oppure sintonizzarsi durante la diretta prossimamente. La data della trasmissione in diretta con i due medici sarà comunicata attraverso un servizio che l'emittente provvederà a divulgare nel telegiornale e sui canali social.